Il venerdì della rabbia che infiamma di nuovo l'Egitto. Per la prima volta dopo il massacro di Ferragosto sono tornati in piazza i sostenitori dei fratelli musulmani. In segno di sfida per la sanguinosa repressione ordinata dai militari, in migliaia si sono riversati nelle strade al Cairo e in altre città egiziane. Da Ghiza a Mansura dove la polizia ha sparato dei lacrimogeni per disperdere i manifestanti promorsi, fino a tanta sul delta del Nilo, qui almeno un dimostrante è rimasto ucciso, diversi feriti. Queste immagini arrivano dal Cairo, una città blindata. Militari e unità speciali della polizia presidiano i punti nevralgici, il palazzo presidenziale e il quartier generale di Al-Sisi, il regista del colpo di stato con cui il 3 luglio è stato destituito morsi. Ma l'ordine dei militari oggi è di mantenere un profilo basso, evitare spargimenti di sangue. Piazza Tahir, simbolo della prima rivoluzione anti-Mubarak e poi di quella antimorsi, è blindata, chiusa. Questo è l'ufficio del procuratore generale, assediato dagli oppositori di Osni Mubarak, scarcerato ieri e attualmente ricoverato all'ospedale militare del Cairo in attesa dell'udienza tra due giorni del processo che lo vede imputato per corruzione e strage per la morte di oltre 600 suoi oppositori nei giorni della primavera araba del 2011. A meno di 24 ore dalla liberazione dell'ex Rais, il governo provvisorio ha annunciato che una delle misure contenute nella nuova bozza di Costituzione prevede proprio la fine dell'interdizione dalla vita politica per i responsabili del suo partito. Verranno poi messi al bando i partiti religiosi e la nuova carta non sarà ispirata ad una interpretazione ultraconservatrice della sharia come quella voluta dagli islamisti. Per la Casa Bianca, anche in Egitto, così come in Siria è arrivato il momento delle scelte. Barack Obama monisce i nuovi padroni del Cairo e i nostri aiuti, dice, non devono servire a sostenere azioni contrarie ai nostri valori e ai nostri ideali. L'avvertimento ad Al-Sisi è chiaro, c'è un miliardo e 200 milioni di dollari in ballo e l'America non può tollerare altro sangue.